ecco, adesso torno a quello che volevo chiederti la Z no, 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 quello ci andiamo dopo perché in realtà volevo chiederti, ti sei sicuramente accorto che ogni notte sull'Ucraina e attorno al Donbass circolava più di un drone, un drone e così via sì, c'era Forte 11 e Forte 12 che partono da Sigonella dei Global Oak, ti sei reso conto che strano viaggio che hanno fatto evitando la Serbia a tutti i costi? sì, perché i sistemi di difesa aerea russi quali? non lo sappiamo mi stavo chiedendo la stessa cosa lo stanno evitando come la premia la Serbia ha ricevuto i panzir ma quelli non bastano abbattere qualcosa a 60.000 però non mi ricordo che cosa avevano in passato gli A625 sono quelli che hanno abbattuto l'F117 tu ti ricordi come furono portati i sistemi S-300 in Siria? no con gli aerei chi ci dice che qualche carico non abbia portato dei sistemi antiaerei tipo S-400 in Serbia? Ricordiamoci che ultimamente dopo soprattutto la visita negli Stati Uniti del presidente Vucic quando c'era ancora presidente Trump che venne trattato malissimo 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 Trump parlava al posto del presidente Vucic no? e gli ha detto assolutamente tu sei con noi vuoi entrare nella Nato è vero che vuoi entrare nella Nato è vero e dietro c'era uno che quando girano la telecamera gli dava gli schiaffoni no? cose così delle scene così da allora è diventato ferocemente anti-Nato Vucic si è legato sempre più alla Russia ha firmato gli accordi di collaborazione economica energetica tenete presente che mentre noi paghiamo cifre iperboliche paghiamo noi cittadini paghiamo cifre iperboliche per il gas i nostri importatori non pagano probabilmente un euro in più di quello che pagavano l'anno scorso due anni fa e vi è dicendo perché perché ha le forniture e qualche giornale come il manifesto in questo caso dopo mesi che lo diciamo tra l'altro noi l'avevamo detto anche nelle frontate scorse si stanno iniziando a domandare ma se Putin ha detto che le forniture arrivano ai prezzi di prima perché hanno fatto i contratti per fortuna pluriennali con Gazprom i nostri a Enel come mai da noi ci sono i rincari come mai a noi hanno aumentato tutte le bollette visto che le materie prime non sono aumentate per loro produttori e guarda che è una questione non da poco è una domanda legittima perché entrano in gioco i fattori quali l'approfittare di una situazione no? quindi conoscere la situazione perfettamente e sfruttarla i guadagni illeciti i guadagni illeciti sono quei guadagni ottenuti da una situazione di comodo tipo ad esempio una catastrofe naturale tu aumenti a dismisura il prezzo dell'acqua potabile ma nella catastrofe naturale non l'hai provocata tu in questo caso invece stiamo parlando di qualche cosa che hai spinto noi stiamo parlando esatto noi stiamo parlando di una cifra di vendita del metano una quotazione di vendita del metano sui mercati globali che non riguarda i nostri importatori di energia e di idrocarburi perché loro hanno contratti almeno per quanto detto dal presidente punti e non smentito da nessuno anzi ho parlato con un fornitore di un'azienda di gas nostra che aveva avuto contatti oltretutto con Gazprom anni fa proprio per una fornitura di gas pluriannale ora se tanti di questi produttori non hanno avuto alcun aumento proprio perché la Russia ha rispettato le consegne del gas da consegnare nell'anno come mai ci taglieggiano? come mai ci taglieggiano? perché io ho chiesto anche nell'ultimo video ai nostri spettatori e se volete anche scriverlo voi quanto vi sta arrivando di bollette di gas e luce perché le cifre che mi hanno detto a me deve ancora arrivare e guarda ho un'ansia che non ti dico arrivano bollette più che doppie ma fortuna vuole che io il gas non lo uso ma una famiglia che spendeva 1500 euro l'anno scorso di metano quest'anno ne spende due 2800-3000 sì porca miseria chi spendeva sui 100 euro di luce gli è arrivata da 180-200 che non è non è neanche gestibile è una cosa del genere ma ma per la misera ma una famiglia che mette via i soldi per pagare 1500-2000 euro di gas all'anno si vede arrivare 3-4000 euro capisci che cioè se uno spendesse 400 euro beh sì me ne arrivano 1000 ma tutto questo quando appunto tutti gli altri possono avere il gas a prezzo di comodo allora è strano sì noi stando ai prezzi di acquisto della materia prima dei nostri fornitori di servizi no quindi in teoria stando a quanto è stato detto in quell'incontro con i nostri grandi imprenditori i fornitori importatori di gas i loro prezzi non sono aumentati proprio perché hanno io infatti all'inizio pensavo al contrario che non avessero optato per i contratti pluriannali proprio perché giudicavo totalmente impensabile che in uno stato democratico e civile come dovrebbe in teoria essere l'Italia potesse succedere che una materia che non ha subito aumenti venga rincarata per gli utilizzatori finali a livelli assurdi distruggendo tra l'altro un tessuto economico quindi i nostri politici sarebbero i nostri rappresentanti mentre fanno queste cose esattamente e nessuno sta portando all'attenzione ad esempio anche in Parlamento questa questione quando ci sono aziende che bloccano la produzione mettono in cassa integrazione con un esborso da parte dello Stato tra l'altro di soldi altre che chiudono perché non riescono a pagare le spese così innalzate ecco tu stai distruggendo le entrate dello Stato future per ottenerne un guadagno immediato adesso cioè l'IVA l'IVA su accise e bolletta una sopravvivenza a breve termine la che possiamo chiamare sì esatto lo Stato quindi incamera soldi istantanei però poi in futuro incasserà molto meno incasserà molto meno perché avrà una società economicamente depressa più di quello che già è adesso bel futuro ma veramente cioè io trovo che è assurdo cioè è una situazione veramente assurda un'ennesima situazione assurda perché se tu vedi i guadagni e le entrate di queste società che esplodono letteralmente non ti viene da domandarti da dove escano questi guadagni extra no? sì sì ma è tutta una situazione che meriterebbe l'attenzione di qualcuno ma purtroppo i giudici sono impegnati a fare altro non noi esatto non noi va bene la Z parliamo di quella Z benedetta sto mostrando la tua mappa con la disposizione del gruppo esatto in questione che cosa è successo quindi a partire da una decina di giorni fa dodici giorni fa le forze russe hanno iniziato sempre più numericamente consistenti ad essere spostate verso ovest e cioè a ridosso del confine al punto di smistamento giusto? prima vedevamo i convogli ferroviari poi portati nei campi poi abbiamo iniziato a vedere convogli via terra poi abbiamo iniziato a vedere convogli ruotati su strada adesso vediamo cingolati in campagna sempre più vicino al confine e tutti i mezzi io l'ho visti 4-5 giorni fa ormai sono 4-5 giorni con questa Z non ci avevo fatto caso prima perché mi ero controllavo i passaggi quello che arrivava nei punti di smistamento nel frattempo mostro un po' d'immagini dei mezzi esatto che hanno tutti questa Z non è la Z non è una Z nell'alfabeto esiste in forma secondaria non nell'alfabeto vero e proprio questo simbolo però che cos'è ha una funzione non è una funzione credo di significato mistico o altre cose no è semplicemente il raggruppamento giusto? è un identificativo IFF ah Frendorfo Frendorfo esattamente perché questo perché bisogna pensare che la Russia e l'Ucraina abbiano in comune molti mezzi perché derivano da unità dell'Unione Sovietica T-72 T-62 non credo che ci siano al fronte ma il T-80 che diventa T-84 in versione Ucraina sì e molti T-80 sono in servizio al momento sono stati portati al fronte dagli SM dalla Russia e per la prima volta finalmente vedo funzionare un po' di T-80 che T-80 diversamente dagli altri sono a turbina giusto? hanno un motore a turbina come l'Abrans per funzionare sì sono studiati per funzionare in ogni latitudine principalmente in località artiche quindi anche a meno 60 gradi la turbina del T-80 si avvia ed il mezzo è funzionante sono dei mezzi che hanno un'autonomia minore rispetto agli altri vero? sì mi sembra 300 km 400 km sì una cifra simile oltretutto magari con i serbatoi supplementari i T-72 ne hanno qualcosa tipo 500 500 500 600 nelle ultime versioni che avevano un motore potenziato a 1500 1600 cavalli e un consumo ridotto ecco tu il T-80 come lo useresti? come mezzo da difesa o come mezzo da sfondamento? da sfondamento ok per andare avanti cioè eliminare eliminare tramite elicotteri d'attacco e caccia quella che è la resistenza che possono incontrare lungo una direttrice di penetrazione le forze le mie forze quindi il T-80 prima e il T-72 dopo eventualmente e poi spedirli spedirli avanti per occupare poi gli obiettivi per raggiungere gli obiettivi prefissati e stiamo parlando di zone all'interno in questo caso nello scenario di un'eventuale invasione futura penso che l'ultima cosa che farei come generale è pensare di sfondare lo schieramento che è intorno al Donbass perché lì c'è il grosso delle forze trincerate tra l'altro ucraine su tre linee di difesa che si alternano hanno avuto il tempo di prepararle in questi anni c'è il grosso dell'esercito con tutti i mezzi più aggiornati e pertanto preferirei aggirarlo e passare altrove per aggiramento tu parli del nord si del nord esattamente sia dalla Bielorussia che dalla zona di Kharkov non è un caso infatti se il maggior raggruppamento di truppe russe ora visibili sia intorno a Belgorod tra Kharkov e Belgorod scusami tra Kursk e Belgorod e questo proprio per il fatto che quella zona si presta molto bene a raggiungere alle spalle lo schieramento ucraino a raggiungere Dnepo-Petrovsk a raggiungere Zaporizia e poi ancora più giù e girando verso nord unirsi a un eventuale fronte che arrivi dalla Bielorussia da Gomel per capirci che scenda giù e unirsi dalla sponda est del fiume Dnepr e prendere poi Kiev da un lato e le forze che scendono dalla Bielorussia dall'altro però attenzione le forze che scendono dalla Bielorussia scenderanno anche per prendere tutte le le zone dove ci sono le centrali nucleari e metterle in sicurezza esatto e poi ricongiungersi anche con la Transnistria tu non credi che quelle centrali possano già essere state minate? guarda è una cosa che potrebbero fare solo dei nazisti che combinazione esatto e quindi esiste questa possibilità e probabilmente andrebbero raggiunte nottetempo da paracadutisti ok quindi bisognerebbe fare un'azione una violancia in profondità tagli la testa del serpente prendere il controllo delle centrali nucleari e tenere la posizione fino a che non verranno gli specialisti anche fino a che non verranno rilevati non lo dico a caso ma perché era la frase che avevano detto ai diavoli rossi quando tenevano i ponti durante la Normandia resisterete fino a che non vi rileveranno e qui accadrà la stessa cosa è molto pericolosa continua a essere molto pericolosa la situazione non è che si sta sgonfiando al momento infatti al momento c'è il dubbio se il riconoscimento verrà esteso a tutto il territorio degli oblast di Lugansk e di Donetsk perché dobbiamo capire bene che sono molto più vasti dei territori al momento ancora liberi dall'occupazione ucraina perché ad esempio l'oblast di Donetsk arrivava fino a Mariupol e oltre compresa il Lugansk arriva fino a Lambire Kharkov a nord praticamente è solo uno spicchio dell'oblast di Lugansk che è ancora libero così come anche quello di Donetsk si estende molto verso ovest a nord e va a prendere appunto Slaviansk e altri cittadini e insomma la situazione è molto tesa ci sono dei saliscendi in borsa più scendi che sali paurosi stavo notando che l'oro sta salendo abbastanza in questi ultimi tempi sì meno male che ho già fatto il regalo a mia figlia perché se no mi avrebbero salassato ancora di più come col gas come col gas uguale fatto sta che adesso noi abbiamo dei dei politici nostrani che sono già in trincea con i nazisti per dirne uno il PD è completamente arruolato nelle fila del battaglione da Zoff e di Provis Hector quindi Renzi bandiera nazista è all'attacco Renzi non è più nel PD l'ha lasciato sì sì tempo fa l'ha rovinato l'ha rovinato e l'ha lasciato ai suoi redi rovinando rovinando oltretutto anche beh se per quel che c'era da rovinare per dire facendo dei danni in mani al governo al paese ricordiamo non su tutto l'eliminazione dell'articolo 18 quindi di fatto l'inefficacia dello statuto dei lavoratori e poi vari altri provvedimenti comunque sia è materiale per un'altra puntata anche questo sospetto ce lo ricorderemo a lungo fatto sta che il PD è tutto assolutamente arruolato nelle file ucraine è quel cortocircuito radical chic che conoscevano il segretario del partito democratico ha richiesto che si riuniscano le camere e le camere si riuniscano come ha fatto notare Virgilio si riuniscono in genere in Italia previsto che si riuniscano entrambe per discutere situazioni di guerra o altre cose di emergenze nazionali di qualche tipo ora io gli direi di stare un po' calmo poi vedremo probabilmente la lì a quarta pelle sulla torretta di un carro a riete esattamente come la listruss è un'altra esagitata che aveva aveva esaltato recentemente ha esaltato la manifestazione ucraina ultra nazionalista ucraina che ha fatto la giornata dell'unità qualcosa del genere ma come è possibile che la nostra sinistra sia e c'erano tutte le tu vedevi tutte le bandiere di Pravi Saktor quella rossa e nera lì presenti gruppi di ultradestra neonazista e loro che esaltano queste cose qui senza neanche che si sentivano a loro agio senza fare una piega io sono rimasto che schifo è disgustoso ancora per l'esima volta disgustato glielo ho anche scritto che getta un disonore pauroso sulla nostra costituzione sulle nostre istituzioni naturalmente la nostra parola conti qualcosa quindi non però resta lì siamo volentieri ignorati come si suol dire esattamente cos'altro abbiamo da discutere ah io ho una foto di Shoigu che stringe le mani a qualcuno allora lì c'è il passato e il presente la foto è molto 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 bella veramente perché il fotografo è stato bravissimo e l'ha studiata partiamo dal dipinto dal dipinto il dipinto vado a memoria vede la presenza dei generali Montgomery Zuckoff e altri che sono a Berlino tutti quindi il sottofondo del quadro è ciò che resta del Reichstag esatto esatto le rovine di Berlino ed è il momento storico che culmina la fine del grande sacrificio la grande vittoria della guerra patriottica sovietica che ricordiamolo parlando di genocidi e di stermini il più grande sterminio operato da il Reich non è stato né contro gli ebrei né contro altri ma contro il popolo sovietico perché costò la bellezza di 27 milioni di persone difendersi dall'attacco nazista a un paese che trovò risorse laddove nessuno pensava riuscisse a trovarle i generali tedeschi non si capacitavano di vedere ancora arrivare a truppe perché loro avevano molto chiara l'idea delle vittime inflitte ai sovietici e nonostante ciò continuava ad arrivare gente all'attacco all'assalto riuscivano a trovare le forze per travolgere le difese tedesche con armamenti e quant'altro riuscissero a produrre perché non si capacitavano anche che riuscissero a produrre così tanti carri armati la genialità del T-34 stava appunto nel fatto che fosse stato progettato con pochi pezzi faceva paura a vederli uscire dalle fabbriche con le saldature e le lamiere che non erano neanche perfettamente allineate i tedeschi non avrebbero fatto uscire neanche un carri armato da quella cosa lì gli altri li facevano uscire e andavano in guerra subito non serviva che fossero allineati serviva che facessero massa e riparassero per un tot anche i soldati dietro in modo da avvicinarsi ulteriormente alle linee che poi sarebbe arrivato un altro carri armato a sostituirlo e procedere ancora oltre nei primi contrattacchi ricordo che non erano neanche verniciati uscivano così come uscivano venivano mandati al fronte perché non c'era tempo da perdere ricordiamo che il Reich fu fermato con un assedio durato più di 400 giorni tra l'altro abbiamo festeggiato da poco la ricorrenza mi sembra della fine dell'assedio di San Pietroburgo di Leningrado dunque è durato dal 42 se non sbaglio al al 44 forse 43 più di un anno più di due anni credo l'assedio di San Pietroburgo 900 rotti giorni non ti so dire esattamente quasi mille quasi mille giorni mi sembra 970 credo me l'avevano segnalato qualche giorno fa 968 forse credo 968 in pratica era stato il gruppo di armati nord l'aveva circondato all'inizio dell'offensiva dall'8 settembre 41 al 27 gennaio 44 quindi poco dopo l'inizio pochi mesi dopo l'inizio dell'operazione barbarossa nel 41 era stato circondato e isolato i rifornimenti russi arrivarono per la prima volta nel 43 attraverso il lago ghiacciato e tu pensa a quello che è dovuto succedere ricordiamolo anche perché il presidente Putin tutti gli anni si arrecca a San Pietroburgo in quell'occasione per deporre una corona di fiori sulla tomba comune degli abitanti di San Pietroburgo morti di malattia di fami di stenti assediati difendendo la loro assediati esatto perché c'erano i genitori del presidente morì morì il suo fratello a 5 anni di malattia stenti fame uno deve immaginarsi la sporcizia debolezza deperito e quindi deceduto e poi lui nacque dopo la guerra però non l'ha mai dimenticato sono cose che sicuramente restano nella memoria esatto e nonostante ciò i rapporti con i paesi occidentali anche la Germania sono rimasti importanti ricordiamo ha ostentato tra l'altro il fatto di non utilizzare la cuffia dell'interprete del presidente Putin perché parla in maniera fluente tedesco lo sa perfettamente certo esatto e quindi ha sempre tenuto degli ottimi rapporti con frau Merkel Wallace in particolar modo il ministro che stringe la mano del ministro della difesa Shoigu non è nient'altro che il ministro della difesa britannico ha un passato lui è scozzese come forse il nome lasciava intendere e ha militato appunto nelle guardie scozzesi era un ufficiale si è congedato col grado di capitano delle guardie scozzesi quindi ha un passato militare di tutto rispetto e questa cosa è sentita anche a livelli personali da loro perché parlano la stessa lingua Shoigu e Wallace non è come la trousse che arriva e va a fare la foto in piazza rossa scimmiottando proprio il caso di dire scimmiottando la Thatcher la trousse cioè che se la sarebbe mangiata in un secondo una che non sa neanche arriva a un incontro e non sa neanche dove sono le città di cui stanno discutendo era la trousse che aveva sparato quella cosa lì di Voronez sì di 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 Rostov e Voronez lei riconosce la sovranità russa sulle città di Rostov e Voronez o no perché loro gli stavano dicendo che avevano lì le truppe i grossi raggruppamenti erano lì sono le regioni tra l'altro dove c'è poi anche Kursk via dicendo Belgorod e quindi lui diceva cioè insomma questo è territorio russo faremo potremo fare quello che vogliamo come voi lo fate magari nelle truppe a Birmingham o a Londra o nelle zone in Scozia piuttosto che in Irlanda del Nord insomma cerchiamo di capirci noi non mica veniamo a sindacare dove fate gli addestramenti voi esatto quella squadriglia di aeree lì la spostate da un'altra parte sul vostro territorio e lei fa l'Inghilterra la Gran Bretagna non riconoscerà mai la sovranità russa su Voronez e Rostov mi vedo a ridere ancora adesso perché mi immagino la scena dell'ambasciatore che si avvicina pian piano scusa guarda che sono in territorio russo eh ah che scena ragazzi ma questi sono i nostri politici noi i nostri sono ancora peggio di questi sì sì c'è tutta una serie di meme su Di Maio poi vabbè li sconfiamo scusami no 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 scusami questo è importante è importante per me qualche giorno fa una settimana a dieci giorni vi era giunta una notizia come se Di Maio era stato diretto a Mosca si era diretto a Mosca per un incontro doveva andare a Mosca ma c'è stato sì c'è stato se ne ha accolto qualcuno perché i russi non l'hanno fatto vedere come se non fosse neanche esistito hanno fatto vedere la conferenza stampa Di Maio ha assunto un'aria quasi come si dice quasi ufficiale diciamo seria però era sempre Di Maio per cui alla fine delle fini voglio dire non c'è riuscito la figura è quello che è esatto non c'è riuscito neanche lì e quindi boh poi per fortuna non ha detto molto se a Macron hanno dato il tavolo lungo Di Maio era fuori dalla stanza sembra che abbiano fatto una richiesta di parlare con Draghi almeno così dicono dalle nostre parti tipo questo è un incapace mandateci qualcuno di meglio no 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 il punto è sempre questo che tu non puoi dire magari che chiedi il colloquio con Putin perché faresti brutta figura con i tuoi padroni allora dicono no è Putin che ha richiesto il colloquio con Draghi poi magari non è così perché magari chi ha bisogno dei due più che altro è Draghi che infatti ha chiesto signori togliamo dalle sanzioni le risorse energetiche no perché altrimenti noi dove andiamo già adesso vi stiamo facendo il surplus chiudiamo tutte le aziende la nostra la nostra popolazione d'inverno al nord chiude le 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 caldaie noi non incassiamo più niente perché a quel punto lì anche io abbatto tutti gli alberi che trovo in giro ma non accendo più la stufa cioè non accendo più la caldaia vado a stufa ecco e lì perché poi si tira dietro tutto tutto questo costo dell'energia sta generando inflazione ho sospetto che nei prossimi cinque anni saremo tutti per boschi e pulirli come se fossero no non penso quello perché comunque ad esempio verrà ultimato il grande lo sfruttamento del grande giacimento di metano di Zor ma a noi fondamentalmente che è nostro tra l'altro in gestione a Leni tra l'altro e volevano fregarci i francesi quello è nostro e quindi ce lo porteremo a casa si spera attraverso l'Egitto poi la Libia poi l'Italia quindi arriverà e poi c'è il gas che arriva da Azerbaijan faccio così perché l'Azerbaijan probabilmente lo prende dalla Russia e poi lo sfidisce a noi con quel più 25% che ci aggiungono tutti lungo la strada però non ha il passaporto e quindi entra come clandestino diciamo dichiarando di essere a zero abbiamo dei problemi con i gasdotti in realtà perché Nord Stream 2 è chiuso e l'altro è stato sabotato e l'altro è stato sabotato recentemente è saltato no come no ho le immagini su tele eh no quello lì se guardi la tubazione è un DN30 ah ok è un'altra cosa sì quella lì si collega poi è una derivazione è una derivazione per alimentare per alimentare la zona di 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 Lugansk e via dicendo no e non hanno danneggiato l'altro che è una un tubo leggermente diverso quindi mi immagino che razza di di spettacolo pirotecnico avrebbe potuto fare se l'altro fosse stato danneggiato sì beh le fiamme una volta c'era stato un incidente su un metanodotto e le fiamme si vedevano a molti 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 chilometri di distanza per la luce che facevano ecco erano fioriti addirittura gli alberi mi ricordo ma era successo tra l'altro forse da queste parti che aveva preso fuoco anche in Russia è successo alcune volte di questo tipo di incidenti il gas comunque nelle tubature non è poi così pericoloso quando succedono questi incidenti perché c'è soltanto la fiamma che si sviluppa verso l'alto viene intercettata la prima stazione di derivazione viene intercettata la condotta da un lato e dall'altro viene consumato il gas presente nella tubazione e fate le riparazioni anzi lasciano che bruci proprio per evitare un accumulo di gas che può provocare poi un'esplosione e intervengono poi per chiudere la perdita e sostituire la tratta svuoteranno il gas per poterci lavorare soprattutto viene tagliata la linea in punti dove non c'è danneggiamento saldata una flangia e ricollegato poi il tutto quindi quella derivazione lì che è stata sabotata portava il gas semplicemente al Donbass portava il gas nella zona di Lugansk tra l'altro è stata anche bombardata dagli ucraini poco prima dell'intervento russo anche la centrale termoelettrica di Lugansk e quindi alcune zone sono al buio immagino che per i russi riparare questo sia una vazgeco sì nel senso che comunque bisogna vedere quanti danni ha subito se era metano a idrocarburi non lo so a carbone non lo so la zona lì è ricca di carbone quindi può darsi che fosse a carbone la tipologia di caldaia in questi casi in generale a tubi d'acqua e quindi sono abbastanza complesse come tipo di caldaie richiedono interventi attenti e bisogna smontare praticamente intervenire dall'interno ecco e poi ci sono tutti i sistemi di controllo della combustione tutto sommato poi le varie turbine che poi fanno i salti entalpici per il vapore di alta fino a media a bassa espansione recuperando poi man mano energia ogni salto sono dei bei sistemi quelli delle centrali termoelettriche bisogna gestirli con attenzione però gestiti bene la combustione è anche relativamente pulita no? basso inquinamento sì esatto 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 va bene io credo che abbiano detto tutto c'è ancora qualcosa? no Stefano io non ho più niente ma sicuramente nei prossimi giorni data l'intensità forse dovremo registrarne un'altra non dico questa settimana magari io sono libero tu quando hai le giornate libere te lo segnalo comunichi e vediamo di fissare un appuntamento come oggi molto volentieri Stefano io ti faccio i miei migliori auguri per la salute soprattutto questo raffreddore se ne va? eh purtroppo era anche mal di gole quindi non ti dico la sofferenza via tutto via tutto ti ringrazio per lo sforzo che hai fatto durante questa puntata un'ora e quaranta e lo sforzo che i nostri lettori fanno ogni volta esatto perché quando hai delle delle sai abituate le puntate di Saker quando io faccio magari una puntata di quaranta minuti mi dico no è troppo corta se vai non ho detto tutto comunque no era una puntata storica per cui meritava di parlare di tanto sono sicuro che non abbiamo detto tutto noi abbiamo ancora abbiamo detto tutto non abbiamo detto tutto però le cose importanti sono andate le cose importanti le abbiamo trattate adesso seguiamo l'evolversi della situazione e vediamo poi dove si arriva perché appunto la questione dei confini prima o poi verrà il pettine e non solo perché poi c'è la questione che hanno citato appunto del nucleare ucraino che è una questione aperta perché il rischio di avere un paese nemico nucleare accanto e burattino degli Stati Uniti è importante perché se anche tu non fornisci le armi direttamente puoi fare in modo che loro con l'aiuto tecnico e via dicendo economico perché l'Unione Europea ha subito elargito altri miliardi di euro all'Ucraina per sostenerli nella guerra non lo so cioè assurdo possano ottenere poi questi sistemi d'arma complessi di cui dispone tutto il know-how tutta la tecnologia disponibile per ottenerli e le centrali per creare il plutonio e l'uranio di cui ha bisogno secondo te l'Ucraina ha ancora delle centrifughe guarda il combustibile nucleare ultimamente arriva dagli Stati Uniti e non era neanche dei migliori per la tipologia di centrale che hanno a disposizione gli ucraini e si rischia tra l'altro anche un cilino Fukushima 2 eh sì tra l'altro il Giappone riapre le centrali nucleari lo sapevi? no però sapevo che Westinghouse aveva fornito anche a Fukushima ma le stesse vaga questo perché questo perché eh il da quando il Giappone ha chiuso le centrali nucleari deve sopperire alle esigenze con il metano e che arriva via nave in prospettiva di una sanzione che blocchi le forniture di gas all'Europa eh il Giappone si troverebbe in difficoltà perché l'Europa cercherebbe di far incetta di questo metano e quindi avremmo un ulteriore aumento di costi esponenziale se oggi quindi arriviamo a pagare duemila euro per mille metri cubi di gas arriveremo a pagarlo quattro cinquemila vi lascio immaginare le bollette la reperibilità perché tutti lo vorranno quindi esattamente non ce n'è abbastanza due cose mancano le navi e gli attracchi portuali per le centrali di rigasificazione lo stoccaggio LNG e tutte queste cose lo stoccaggio è liquido non abbiamo struttura per gestirlo liquido noi in Italia ce ne abbiamo? abbiamo alcune centrali di rigasificazione tre o quattro mi sembra è strano però con tutti i commerci che avevamo con Gaddafi non avere cose di questo genere forse ma perché sai comunque a prezzo di mercato magari qualcuno a quel costo te lo dà anche fai conto che ad esempio una grossa centrale di di GNL gas naturale liquido era nello Yemen ai tempi era stato fatto nello Yemen e poi causa della guerra abbandonato ma fatti da noi per esempio per trattare all'estero le cose e portarle da noi a costi inferiori questo non te lo so dire non te lo so dire di preciso perché non ho mai seguito dovrei fare delle ricerche faremo delle indagini dell'analisi magari so che comunque ci sono alcuni paesi dal Qatar agli Emirati che lo producono per dire e questo però significa anche una cosa che chi ha detto nei giorni scorsi la von der Leyen che noi possiamo fare a meno ho una diapositive aspetta sì no no non vedo eccola qua ce l'ho ce l'ho cinque secondi eh finita via ok che ha detto assolutamente noi siamo in grado di sostituire io mi chiedo sì ok a che costo sostituire il metano che arriva e poi che costo anche ambientale perché uno dei discorsi che mi preme fare è che il gas metano ad esempio che arriva dagli Stati Uniti principalmente è un gas di scisto di scisto quindi arriva dalla procedura del fracking spaccare le rocce via dicendo introducendo infiltrazioni di ogni genere di sostanze di intossicanti che poi escono con i fanghi nelle falde con i fanghi del metano il metano non esce spinge su anche i fanghi no e poi si libera da questi e quindi vanno trattati è altamente inquinante tossico per l'uomo è costoso come sistema di estrazione questo gas qui poi va trattato spedito ai porti dove ci sono gli impianti di gasificazione di liquefazione viene liquefatto trasportato con le navi che sono estremamente inquinanti noi quindi avremo una via vai di queste navi senza manutenzione senza controlli al massimo dei giri possibili per velocizzare più possibile le forniture quindi un inquinamento incredibile e un costo anche micidiale per arrivare esatto perché i consumi sono elevati arrivare poi in Italia in Francia in Spagna dove arrivano e dover usare altra energia per gasificarli ecco costo aggiunto ancora a quel punto immetterli nelle pipeline nei metanodotti come l'altro mentre l'altro viene estratto raffinato nel senso lo separano dai fanghi naturali con cui esce stoccato nei depositi e caricato nel metanodotto e spedito via tubo niente liquefazione niente liquefazione quindi come esce e arriva poi al consumatore finale e niente trasporto in nave quindi niente inquinamento esatto niente inquinamento ha il solo costo iniziale di produrre il il metallo il metallo per il metanodotto la posa la posa e dopodiché quella resta lì per anni decenni no io negli anni 70 mi ricordo quando era stato fatto il metano che arrivava dalla Siberia il metanodotto siberiano e iniziarono a posare le linee per il metano in tutte le case quindi non si vedevano più i fumoni neri della nafta del gasolio degli impianti dei palazzi come delle case ma usciva il fumo bianco del vapore acqueo relativamente pulito e quindi io mi chiedo il metano è uno dei sistemi di riscaldamento di produzione di energia più puliti che abbiamo al momento e più economici una volta magari più economici adesso comincia a salire ma a livello di produzione il costo non è aumentato non è cambiato ma dal punto di vista economico non è che ci stanno abituando adesso dei prezzi al gas di scisto americano non torniamo più esatto ma il punto è quello che tu devi arrivare a dei costi tali per cui quando passerai al gas di scisto resteranno sempre questi elevatissimi ecco appunto ho come questa sensazione che ci stanno già abituando adesso ma questo significa anche che per noi sarà la fine dell'economia impiccati perché con tutti i costi delle generi di prima necessità aumentati o aumenti di pari passo gli stipendi quindi generando inflazione su inflazione o altrimenti l'economia reale del paese ne risulterà molto impoverita e dovremo fare i conti con una crisi economica che farà impallidire il 2008 2009 ecco va bene ti ringrazio Stefano è stata una bella puntatona spero che sia gradita ai nostri ascoltatori e un saluto cerca di riposare mi raccomando anche tu ci sentiamo più presto ciao Sascha ciao Stefano un abbraccio